Tommaso Trussardi ha lanciato una frecciatina a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ma cosa c'entra Marika Pellegrinelli? Maretta fra Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker, l'ex marito della conduttrice svizzera le ha lanciato contro una frecciatina e poi lo ha fatto anche con il suo ex, Eros Ramazzotti, pubblicando una foto insieme all'ex compagna del cantante, Marika Pellegrinelli. Ma cosa è successo? Leggi anche, Belen Rodriguez conferma la storia con Stefano De Martino, ma tanto ci lasciamo di nuovo e lui andrà con altre donne, Tommaso Trussardi contro Michelle Hunziker andiamo con ordine, Tommaso Trussardi ha compiuto di recente 39 anni, Michelle Hunziker via social non ha fatto gli auguri al suo ex marito e questo è sembrato strano al diretto interessato. Poche settimane fa è stata proprio la conduttrice svizzera a spegnere le candeline sulla sua torta di compleanno e in quell'occasione Tommaso Trussardi ha riservato dolci parole alla sua ex Michelle, la storia di Tommaso Trussardi cosa c'entrano Marika Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Durante la sua festa di compleanno, Tommaso Trussardi ha pubblicato una foto in cui spegne le sue candeline e proprio in quell'occasione ha lanciato una frecciatina a Michelle Hunziker. Ecco cosa ha scritto, la storia di Tommaso ma cosa c'entrano Marika Pellegrinelli e l'ex Eros Ramazzotti? L'ex della conduttrice ha pubblicato una foto insieme alla modella, durante una serata di beneficenza per lo IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia. Trussardi ha scritto, sotto al post, la Pellegrinelli ha risposto con, la foto di Marika Pellegrinelli e Trussardi insomma, Tommaso Trussardi ha voluto lanciare frecciatine a destra e a manca servendosi di tutte le ex di Eros Ramazzotti, prima Michelle Hunziker e poi Marika Pellegrinelli. Cosa succederà ora? Lo scopriremo. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.